Lei è la galghina numero 96036, una splendida galghina minuta, dallo splendido manto nero, è una galghina molto giovane, nel paddock con gli altri cani andava d'accordo con tutti, in passeggiata è molto curiosa, molto attiva, guarda anche il conduttore molto spesso, insomma chi l'adotta sicuramente si divertirà un mondo con lei.